Il sound dance, colgo l'occasione per fare gli auguri di buon anno a tutta la community di Dance Evolution e per fare i complimentoni ad Andrea Mazza, che per me è il pioniere della dance electronica in Italia. È un suo magnifico programma che seguo da moltissimi anni e ogni sera mi fa vivere delle emozioni bellissime. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.